Ok ragazzi, Kazoo è di sotto che dorme Vi viene in mente qualche piccolo scherzo da fare Gli chiedi so, vi viene in mente qualcosa, ecco Sicuramente non con questa, no Ma come non con questa? No, no, con questa no Ma che cavolo state dicendo? Ragazzi, sta dormendo, vi ho detto Aspetta, forse sì, allora Ecco, finalmente ci siamo arrivati Non ho capito Ma come non hai capito? No Era così facile Ninna, quella è una cassa Quindi se tu metti la musica o metti dei rumori fa Ok, ok Ma che fa, scusa, non ho capito bene Ho detto che fa Ah, ok, ok, ok Ora mi è molto più chiaro Andiamo Forza ragazzi, più veloci Non potete far sempre tutto a me Più veloci, più veloci Dai Dai, forza, forza Ma non potevamo prendere, non lo so, una cassetta bluetooth Ok ragazzi, l'importante è fare piano, ho capito? Parlate piano, basta voce, non urlate per nessun motivo Non vuoi stare zitto Ok, ok, scusa, scusa, scusa Cazzo, mi dovrei andare a stare qua dentro Andiamo a aspirare Vediamo un pochettino se... Sì, 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 vi confermo un po' dentro È lì, ecco, ok Allora, come iniziamo il piano? Spregatemi, non la riesco a tenere Andammi a me questa cosa, ma non pesa niente, vatti Aspettate, ma il piano ha un nome perché se no non funziona Si, si chiama piano da stiro No, piano forte Piano forte, ci sono Geniale Ok, allora entriamo e spacchiamo tutto Vai, vai a dare scossa Aspetta, fermo, 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 fermo Wow, non è il pianoforte Ma no, no, dobbiamo prima attaccare questa Giusto, geniale, geniale, geniale Vedi, sapevo che ci serviva una mente del piano e non potevo essere io Matti, inizia il piano Ok E sai già che cosa fare? Azioniamo la cassa Ma la dovresti mettere dentro la cassa dove Kazoo dorme Azioniamo la cassa dentro dove Kazoo dorme Esatto, è proprio questo quello che ho appena detto Vai, piano, piano, piano Matti, psst, Matti, mi ricevi? Si, ti ricevo Ma siamo un metro di distanza, come fai a non ricevermi? Ok, ti ricevo Si, si, mi ricevi, perfetto, ok, sei pronto con la cassa, tutto collegato Azioniamo Iniziamo, 3, 2, 1, vai Ma che state facendo? Ma che state facendo? Ma uscite fuori dalla meca Ma andatenele via Ma cosa fai? Ma vai via Ma che cavolo vai? Vieni qui, torno Vieni qui, torno a dormire Ma staccate sta roba Ma stavo dormendo Pianoporte E' il nome del piano Non siete pazzi, impazzite, oh E poi la sua reazione è stata qualcosa di assurdo Cioè ragazzi, ma ci rendiamo conto Non ha capito pianoporte No, ma veramente, era un piano così sepp Io non ci credo Ma sta ancora dormendo Io non ci credo Cosa? Ma come è possibile? Ma lui si addormenta ovunque Ma infatti Ma Matti Se prima il pianoporte ha funzionato a dovere Ora è il momento Del piano Brandina Brandina Sì, piano brandina Secondo me il piano brandina Che cosa vorrà mai dire? Non lo so che gli regaliamo una brandina per dormire Ma se non mi sta sopra la brandina in questo momento Ah Ok, no, ho sbagliato Forse ho capito Vai, andiamo 8 anni di esperienza Il piano brandina è stato riconosciuto a livello mondiale Consiste nel buttare in piscina la vittima Che in questo caso sarebbe lui E svegliarlo con un brutto ricordo Sì, ok, però ora sbrigiamoci prima che si svegli Io dirigo i lavori Andiamo No, 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 cazzo Lui, la pista, l'avanti Ok, no, no, no Il peccato è in alto Ok, sì, poi passi Sollevatelo Via Niente a chiaro, mamma mia Ma è come sollevare un po' No, 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 niente Tranquilo, dormi Ma tu dormi Aiuto Ma com'è caduto Ma mi fate dormire in tanta pace No, mi dispiace Ma ti pare che dormi alle 16 del pomeriggio Allora, io onestamente mi sono stufato di ricevere scherzi Mentre dormo, mentre sono sul lettino Ma so che non è colpa vostra Ma è colpa di colpirla Ma che cavolo sta facendo Ah, sta tagliando le piante, ok Bene, però mi è venuta un'idea ragazzi Posso buttarmi in piscina Visto che ormai sono già completamente bagnato E fingerò di annegare Così facciamo prendere un po' un pack up Ok, vabbè Ci sto, ci sto Io sono dalla tua parte Ma sono sempre stato dalla tua parte Spermi tutti Ma tu sai fingere di annegare? Certo, io sono esperto Fammi vedere Ehi, 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 ehi Che c'è? Che state facendo? No, stiamo organizzando una gara di tuffi in piscina Ragazzi, siete pronti? Pronti? Andiamo 3, 2, 1 Vai, Kazoo Vai, Kazoo Bravo Ottimo questo Bravo, Kazoo Kazoo Aspetta un attimo Kazoo 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 Ma lancia di te se sta andando No, no Ma come no? Ehi, Kazoo Kazoo Vai, Kazoo Kazoo Ehi, vieni qui, te Vieni qui, ragazzi, così va bene? No, te ne ho mai avuto Lo devo tirare su Così va bene? Vai Ma non sta su È tipo un grande giunto, guarda Non sta su, ragazzi, è una cosa assurda Oh, no, no, no Ehi Au No, scherzo Bene, l'avete detto, mi ha servito su un piatto bagnato Ma era un piatto d'argento Ma non si ricorda neanche il copione Ma d'estate è bagnato Ah, ok, ok, d'estate è giusto Ragazzi, sapete cosa sono questi? Sì, un birra che tiene in mano dei Caramelle, caramelle, caramelle Caramelle, caramelle Ci provo, ci provo Sono caramelle, dammeli Sono dei botti, si chiamano poppy pop E quindi non posso Tu li lanci e fanno rumore Guarda, vedete? No, no Ssshh Ok, tutto chiaro Ssshh Ssshh Ma tu devi spiegarlo meglio il piano Come si chiama il piano? Piano pop pop Ma che vorreste fare? Scusate Ma dov'è che sta dormendo? Sì, sta dormendo proprio come un ghiro Ssshh Non riesco da passare di più Ssshh Ok ragazzi, direi due a testa Due a testa Questo deve essere il colpo di signale Aspetta, vi posso fare l'effetto mortaio Vi faccio vedere come Effetto mortaio Effetto mortaio Ssshh Mi vado a fare un bagno in piscina Dai Allora, attento Se ci guardano tu fai finta di essere una balena Ok Come si fa la balena? Ma questa non è una balena Ma non è una balena Scusami Allora, spieghiamo il piano Praticamente abbiamo dei nerf Giulia Ma tu parli con le balene Scusa un attimo Sì, tu sei una balena Parlo con una balena Perché mi risponde Comunque dobbiamo partire con la battaglia nerf Prendi il nerf Prendi Prendi il nerf Ah dai Ma l'hanno visto adesso Sshh Almeno non sono sentito Almeno non sono sentito Tre Due Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Tre Due Ciao ragazzi Ciao Parti con la battaglia nerf Vai Guarda 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 ragazzi volley ball con penitenza sorpresa si è fidati di che è molto crudello si arriva 5 3 2 1 vai 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 era chiaramente 1 0 8 6 8 2 a 0 era fuori perché voi l'avete cacciata pure dove finisce il campo qui? ci sono ancora 2 3 0 3 0 via vai gioca man만 ci vogliamo! dai dai se mi decine va con noi 3 1 1 1 2 1 attenzione 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 ma io l'ho detto che questo c'ha i buchi nelle mani recuperiamo dai sono avuto una banana e un cigliato 3 2 1 via siamo 3 a 2 ragazzi attenzione vai 4 a 2 4 a 2 prossimo per vincere aggiungiamo una nuova regola io c'ho quella qua sopra non è valido se è giuato 1 via gioca attenzione ragazzi sono il giudice supremo ok 4 a 3 3 2 1 gioca attenzione ultimo punto per entrambi chi fa questa vincere tutto 3 2 1 gioca vai stai 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 ma perchè è il compagno di squadra più scarso al mondo niente cito si ma io vorrei capire qual è sta no ragazzi ah la penitenza è che mangiamo panna fantastico preparate i piattini sono il più gran mangiatore di panna fai tra capo un bel piatto si si a me è un piatto bello pieno mamma mia inizio già l'assaggio si si assaggia assaggia a me poca panna per favore poca? si poca va bene così no 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 tranquillo no 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 tranquillo no 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 tranquillo no 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 più ne mangi meglio è eh ma lui ne ha meno no no fermi aspetta devo fare l'assaggio ufficiale no ma tanto lo fanno mangiare ora ma ti dai un calzo per favore ok ok tanto io ho già capito quello che sta per succedere presentazione ok allora qual è la presentazione? facci vedere questo è un piatto di panna eh me ne sono accorto questo pure e dove andranno a finire? nella nostra panza 3 1 go ah ci dobbiamo allenare a fallavolo sei uno scarsone oh ragazzi ma non è che avete centrato proprio la bocca eh è arrivato il momento di uno scherzo finale Carlo è di là stesso a prendere il sole sicuramente non sarà dormendo di qua abbiamo ben due schiuma party spray bene Matti mi raccomando agita per bene siete pronti ragazzi? sono pronto all'azione ok sono pronto Rina ciao capo 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 ma cos'è? ma cos'è? ma cosa fai? ma cosa fai? io se ti prendo sei morto se ti prendo sei morto schiuma parti vattene via c'è? ma cosa fai? vattene via